Aumentano gli omicidi di donne, due solo nelle ultime ore, in provincia di Padova e nel Catanzarese, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne e diminuiscono le denunce. Sono tra i dati che emergono dal dossier un anno di codice rosso, reati spie e femminicidi, pubblicati dal Viminale a poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 69-2019 sul codice rosso, che ha modificato il codice penale di procedura penale e introdotto specifiche misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Tra i reati di nuova introduzione che hanno fatto registrare più trasgressioni, ci sono le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, 1741 tra l'agosto 2019 e quello 2020. Sul cosiddetto revenge porn, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, dei 718 reati denunciati, l'81% è riguardato vittime di sesso femminile. Per quanto riguarda invece reati spie e indicatori di situazioni di violenza di genere, come lo stalking, nei primi nove mesi dell'anno emergono numeri inferiori rispetto allo scorso anno, che risentono evidentemente delle difficoltà di denunciare nel lockdown. La fascia d'età più colpita è tra i 31 e i 44 anni, con una prevalenza di vittime italiane. Inoltre, nei primi nove mesi del 2020 si registra un aumento dei femminicidi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita del 3%. Stesso trend in aumento se si considerano le vittime in ambito familiare e affettivo, che passano da 68 a 77, uccise in prevalenza da partner o ex partner. I momenti più frequenti risultano liti e motivi passionali e la fascia più colpita è quella delle over 65, il 30% delle vittime. La violenza contro le donne è un'emergenza pubblica che va contrastata in ogni aspetto, dall'aggressione fisica alle vessazioni psicologiche, estirpando l'idea dissennata che nega la parità nei rapporti tra uomo e donna, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.